Torna a Cremone il mercato europeo, la manifestazione dedicata ai sapori e alla cultura dei paesi europei organizzata da ANBA, Confesercenti Nazionale e Confesercenti della Lombardia Orientale. Dal 4 al 6 maggio 60 stand gastronomici e dell'artigianato si snoderanno tra Corso Garibaldi e Corso Campi, partendo da Palazzo Cittanova dove venerdì 4 maggio alle 9.45 si terrà il taglio del nastro, per poi arrivare fino all'angolo tra la Galleria 25 Aprile e Corso Cavour. Un appuntamento da non perdere che richiama ogni anno migliaia di persone attirate dai sapori e dai gusti provenienti da Grecia, Spagna, Germania, Austria, Cecoslovacchia, Slovenia, Irlanda, Polonia, con qualche deviazione extraterritoriale verso Messico e Brasile. Si potrà assaporare la classica birra tedesca, austriaca, irlandese e cieca, lo strudel austriaco, i brezzal caldi e sfornati al momento, sempre rimanendo tra le specialità culinarie. Si potrà assaggiare la goulash soup, le pregiate carne del grill polacco, le prelibatezze della cucina pavarese. Si vuole qualcosa di più mediterraneo? Ecco la paella tradizionale, i prodotti della terra greca e naturalmente le eccellenze italiane con i migliori prodotti regionali. Un viaggio in Europa passeggiando nel centro storico di Cremona dove saranno allestiti anche intrattenimenti per bambini. Apertura continuata degli stand dalle 10 fino alle 24, ingresso gratuito. Il mercato europeo, tutto il buono che c'è in Europa.